e scianni manica col colpo del campione due errori a 4 e 20 passo alla misura 4 e 25 alla prima e va in testa dovremo vedere la risposta di basilotta bravo tommaso scianni manica scorso anno quarto all'aperto a rietti era stato campione italiano cadetti a class due anni fa nel 2017 gran bella prova per scianni manica adesso giulio basilotta fiamme gialle simoni proverà la risposta tra poco tanto continua la marcia mentre inquadrato soddisfatto tommaso scianni manica e ci mancherebbe altro migiale simoni prima prova per ora percorso netto per lui